Forse non lo sapevi ma il diaframma, il nostro principale muscolo respiratorio, è anche uno dei principali motori della nostra postura e siccome è un muscolo che spesso tende ad essere un po' contratto, un po' in sofferenza, è spesso lui che dobbiamo imputare il peggioramento della nostra postura ma possiamo anche sfruttarlo per migliorarla questa postura e in questo video ti mostrerò proprio questo, come migliorare la postura attraverso un buon lavoro sul diaframma. Per capire quanto il diaframma possa essere implicato nella nostra postura non bisogna fare molto sforzo, basta pensare a quando dobbiamo utilizzarlo molto immagina di aver fatto una corsa molto faticosa, di avere il fiatone, arrivi alla fine di questa corsa e che cosa fai? Ti metti in questa posizione Mi piego per poter lasciare muovere il diaframma con più facilità. Tutti gli altri muscoli sono disposti a sacrificarsi pur di lasciare spazio al diaframma e si sacrificano chiudendoci, non aprendoci come molti pensano. Pensa un po', se io dovessi essere con il fiato veramente alla fine arrivo, ecco mi metto a respirare per prendere più aria, aprire di più i polmoni, no, per dare più escursione al diaframma io mi chino e il diaframma si apre maggiormente. Quindi se il mio diaframma è costantemente un po' troppo sollecitato, un po' troppo contratto, perché? Perché magari accumulo tensione emotiva, è uno dei motivi principali che cosa succede? Certo non mi metterò in questa posizione ma piano piano può essere che assumiamo un tipico schema di flessione. Ecco perché per contrastare questo schema di flessione posturale noi possiamo utilizzare il diaframma durante degli esercizi di apertura. Vediamo adesso alcuni esercizi molto interessanti nei quali l'unico comando, l'unico obiettivo è quello di fare una massima escursione inspiratoria e massima escursione espiratoria proprio per sollecitare al meglio il diaframma. Prima di vedere il primo esercizio ti raccomando una cosa, se vuoi andare oltre questi esercizi, questi suggerimenti che vediamo e fare un vero e proprio allenamento, un vero e proprio programma completo, vai a vedere i link nella descrizione del video perché trovi l'accesso a quelle che sono le mie lezioni di introduzione e le mie metodologie complete su questo argomento. Primo esercizio che ti consiglio di provare sicuramente la cosa più semplice, ovvero apro le spalle, spingo le spalle all'indietro, vado contro allo schema di flessione anche attraverso il movimento dei gomiti, quindi spalle indietro, gomiti all'indietro, creo quindi una tensione che non deve essere eccessiva sul torace, metto una gamba avanti e una gamba indietro ma giusto per la stabilità e a questo punto come dicevo il comando massima ispirazione e massima espirazione. Facilmente quando fai questo tipo di esercizi sentirai che c'è formicolio a livello delle braccia e sentirai anche una differenza di tensione a livello delle braccia, del torace, quando sei massima ispirazione e massima espirazione, proprio perché il lavoro sul diaframma è molto legato ai muscoli posturali. Bene, quindi quante ne faccio? 3-4 respirazioni, poi lascio sciogliere e faccio un minimo di un 10-15 respirazioni per poter dire di aver dato uno buono stimolo ai muscoli. Secondo esercizio imprescindibile nelle mie metodologie allungamento dell'upsoas con respirazione completa. Metto qualcosa di morbido sotto il ginocchio, raddrizzo la colonna, l'altra gamba la porto avanti e faccio fondamentalmente un piccolo affondo qua, leggero leggero, con la colonna dritta fino a che non si crea una leggera tensione qui. Ho una leggera compressione dietro ma deve essere leggera. Mi appoggio qualcosa per l'equilibrio ma se ci riesco pur rimanendo appoggiato spingo un po' indietro le spalle come facevamo nell'esercizio precedente, ok? E da questa posizione ancora massima ispirazione e massima espirazione. Anche qua devo apprezzare che tra massima ispirazione e massima espirazione c'è una differenza di tensione, cambia la tensione della gamba che non deve mai essere eccessiva ma comunque devi sentire che cambia perché il lavoro del diaframma è molto legato appunto in questo caso al lavoro dello psoas. Tra quattro respiri da una parte, tra quattro respiri dall'altra sono un buono standard per questo esercizio. Terzo esercizio, rimaniamo in tema psoas ma stavolta vado a lavorare da in piedi e vado ad aggiungere una tensione a livello dell'arto superiore. In questo modo ho fatto un lavoro che io definisco di catena, cioè utilizziamo più muscoli, distendiamo più muscoli contemporaneamente. Quindi vado in posizione di allungamento dello psoas, gamba bene diritta, schiena bene diritta e piego leggermente questa. E tra l'altro questo esercizio può essere anche il sostituto di quello precedente se ti danno fastidio le ginocchia anche con sotto qualcosa di morbido. Bene, quando ho la schiena bene diritta a questo punto porto il braccio verso l'alto e spingo verso l'alto ulteriormente. Ora non voglio creare troppa tensione soprattutto le prime volte, ok? Soprattutto quelle persone che hanno un po' di fastidio alla colonna lombare teniamo la tensione lieve ma anche qua massima ispirazione e massima espirazione. E devo sentire anche in questo caso che c'è un cambiamento di tensione. Sentirai che le braccia formicolano molto presto, a volte solo dopo una o due respirazioni. Benissimo, fai un 10-15 respirazioni da una parte, 10-15 dall'altra, ma ogni respirazione o due sciogli un attimo il braccio e lascia che si riprenda formicolio di mano in mano tende a diminuire questo tipo di fenomeno, mai a sparire perché effettivamente un po' di compressione dei nervi la andiamo a creare. L'ultimo esercizio è particolarmente interessante per chi ha formicoli alle braccia o dolori alle braccia in generale. Siamo sempre nella posizione a spalle indietro, le braccia le portiamo verso i 90 gradi circa o anche un pochino più giù se senti che ti dannoia il tratto cervicale, le portiamo il più indietro possibile, il più indietro possibile e da questa posizione andiamo a fare quello che abbiamo fatto finora. Massima ispirazione, massima espirazione e anche qua sentirai che c'è una notevole differenza tra massima ispirazione e massima ispirazione legata in questo caso al fatto che l'abbassarsi dell'esterno distende il muscolo pettorale e noi lo stiamo già distendendo portando le braccia indietro. Anche qua 10-15 respirazioni con pausa magari ogni 3 o 4. Ecco qua, questi sono una serie di esercizi che possono sicuramente aiutarti a migliorare la postura e sfruttano il lavoro del diaframma portando in tensione i pettorali, portando in tensione l'opsoas, aprendo le spalle e chiedendo al diaframma la sua massima escursione attraverso inspiro tutto ed espiro tutto. In questo modo quindi riusciamo a contrastare la tendenza del diaframma a essere un pochino contratto per l'accumulo per esempio di tensione emotiva o per ragioni varie c'è anche magari che ha delle problematiche respiratorie che inevitabilmente vanno a condizionare il lavoro del diaframma ma riusciamo a ridurre e anzi a migliorare l'impatto del diaframma sulla nostra postura e quindi sulle tensioni, sui dolori e così via. Quindi è un lavoro sicuramente da provare. Se vuoi andare oltre questi esercizi e fare un allenamento completo vero e proprio e seguire il mio protocollo su questo genere di argomento, su questo genere di problemi, definiamo così, vai a vedere i link nella descrizione del video perché non è finita qua, naturalmente ci sono tante altre cose da fare, negli ultimi anni ho aiutato letteralmente migliaia di persone con le mie metodiche, quindi vai a vedere i link nella descrizione del video che così puoi accedere anche ai miei materiali di prova e a tutte le mie metodiche. Per questo video è tutto, se ti è sembrato interessante non dimenticare di lasciare un mi piace, non dimenticare di iscriverti ai miei canali. Grazie mille dell'attenzione, ci vediamo alla prossima.